Ok. Buongiorno a tutti, salve, sono Diego Livali, sono il regista del film Aveleno, che proietteranno a Prato il 22 maggio alle 21 al Cinema Eden. Vi aspetto, il film è una storia drammatica, ma nello stesso tempo credo sia una storia importante per capire in qualche modo noi stessi e i rapporti con il nostro territorio attraverso una storia che riguarda la terra dei fuochi. Vi aspetto, grazie.